Continuiamo a chiedere che Giorgia Meloni venga qui in aula, venga a rispondere ai question time. Non l'abbiamo... la presidente Giorgia Meloni non è venuta negli ultimi sei mesi, è venuta una sola volta nell'intero anno, ma noi le chiediamo anche di uscire dalla sua ideologia conservatrice, quella che continua a chiedere deroghe, quella che continuano ad affrontare le gravi crisi industriali di questo Paese. Ne ne dico due delle ultime ore, tutte nel nostro territorio torinese. La prima ha chiuso lo stabilimento di Maserati senza una parola del governo. Sposteranno, diciamo, tutta la produzione dentro Mirafiori. Un stabilimento che è in vendita, in vendita su immobiliare.it, non è lercio, è oggetto di una crisi inesorabile. Ma ne ne dico un'altra, visto che la Presidente del Consiglio si è permessa di irridere le questioni che Angelo Bonelli le ha posto nell'ultima discussione proprio sul Consiglio europeo. Guardate che l'ideologia folle è quella che non vede già oggi la crisi dei posti di lavoro. Già quella che continua a spostare sulla transizione ecologica la grande crisi, non vedendo quello che succede. Ne dico un'altra di crisi. Proprio a Torino, in queste ore, i lavoratori della Lear si stanno mobilitando perché a fine anno scadono gli ammortizzatori sociali. Sono più di 400 famiglie. Sai che cosa fanno, Presidente? Fanno sedili, sedili appunto per la Maserati. Ma guardi che i sedili esisteranno anche con la fine del motore endotermico. Perché do una notizia alla Presidente del Consiglio. I sedili si faranno appunto anche con l'elettrico. E abbiamo però un grave problema d'indotto, vero? Noi non stiamo mettendo le risorse a proposito del PNRR proprio su quella transizione che serve all'indotto italiano, ma serve anche in una discussione generale, paritaria col governo francese, a dirci dove saranno fatti gli investimenti di Stellantis, dove verranno fatte le Gigafactory, se in Italia o in Spagna. Allora noi chiediamo un'informativa urgente alla Presidente del Consiglio per parlare di politiche industriali, per dirci qual è il suo punto di vista con multinazionali che non fanno gli interessi del nostro Paese. L'abbiamo vista dialogare con Elon Musk a Braccetto e le dica di portare qui la produzione di auto elettriche. Siamo disponibili perché questa autarchia italiana, per cui abbiamo un monoproduttore che non è più italiano, che non paga le tasse in Italia, che non ne frega niente del destino industriale di questo Paese, deve finire. E noi siamo qui per dirvelo. Grazie.